Buongiorno a tutti, buongiorno e pace. In questo giorno di grazia, in cui si celebra l'esaltazione della Santa Croce, voglio chiedere a Gesù Crocifisso che dall'alto della croce, con i Suoi occhi pieni d'amore, guardi me e ciascuno di voi, che possa il suo sguardo entrarvi dentro e darvi tanto amore. E voglio chiedere a Padre Pio, di cui oggi inizia la novena che vi ho preparato su YouTube e ve la farò ogni giorno, di parlare di tutti voi a Gesù. Ve lo prometto, io pregherò la novena per le vostre intenzioni di preghiera, ma voi fatelo lo stesso. La conoscete la storia delle palline da golfo nel barattolo? Non la conoscete? Ve la racconto io. Un giorno, un professore salì in cattedra davanti ai suoi studenti universitari e tirò fuori un grande barattolo con delle palline da golfo. E mise tante palline quante ne conteneva il barattolo. Domanda agli studenti, è pieno il barattolo? E tutti rispondono sì. Tira da sotto il tavolo un barattolo con dei ciottolini e li mette nel barattolo dove ci sono le palle da golfo e queste si vanno ad adagiare lì dove c'è spazio. Domanda agli studenti, è pieno il barattolo? E tutti rispondono sì. Poi tira fuori della sabbia e la butta nel barattolo dove ci sono le palle da tennis e le pietroline, i sassolini, i ciottolini. E domanda, è pieno il barattolo? Naturalmente la sabbia si andava a depositare lì dove c'era lo spazio fino ad arrivare a terra. Sì, risposero gli studenti. E poi tirò due tazzine di caffè e li rovesciò nel barattolo che si disperse tra la sabbia, i ciottolini e le palle da tennis. E tutti gli studenti risposero, è ora? È ora. Questa è la morale. Questo barattolo è la nostra vita. Le palle da tennis che sono più grandi sono le cose più importanti nella nostra vita. La famiglia, i figli, gli affetti. Il primo spazio che deve esserci nella nostra vita è per le cose importanti. I sassolini sono invece le cose meno importanti però che sono necessarie. il lavoro, per esempio. E deve avere il suo giusto posto. La sabbia, invece, sono tutte le altre cose quelle non necessarie, quelle futili. Noi non dobbiamo far diventare le cose futili cose importanti e trascurare le importanti. Trovate il tempo prima di ogni cosa per la famiglia, per i figli, per i amici, per curarvi, per riposarvi, per volervi bene e poi tutto il resto. Questa è la storia di oggi perché vedo tanta gente correre. Vedo tanta gente che non si ferma mai. Vedo tanta gente che non si ferma sulle cose importanti. e le cose importanti un giorno non ci saranno più e noi rimpiangeremo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io vi mando un bacio, mi metto in viaggio per Terni e voi accompagnatemi con il vostro affetto e la vostra preghiera.